Nel settantesimo anniversario della liberazione italiana, della fine della seconda guerra mondiale per quanto riguarda l'Italia, il 25 aprile del 45, siamo andati a intervistare Maria Airaudo, una delle ultime partigiane sopravvissute qui nella nostra zona. Sono nata a Bagnolo, Piemonte il 18 ottobre 1924, frazione Villar. Cosa faceva prima di diventare una partigiana? Io ho iniziato a lavorare da Mazzone, Saperola Fiera, nell'anno 1937, ho compiuto 13 anni il 18 ottobre, l'8 novembre sono entrata in stabilimento da Mazzone, Saperola Fiera, nel reparto tessitura. Cos'è che l'ha spinta ad aderire alla guerra di liberazione? Io ho aderito senza capire a che cosa andavo incontro. 30 dicembre 1943, a Villar Bagnolo, a Bagnolo Piemonte, ma a Villar Bagnolo, attorno a casa mia hanno ammazzato 13 uomini. A Bagnolo Piemonte quel giorno hanno ammazzato 22 persone. Perché? Per intimorire la popolazione che non aiutassero i partigiani. Questo era lo scopo principale. C'era un fascista dal nome Novena, è stato identificato dai partigiani. Il 22 dicembre del 1943 erano andati a un'osteria che c'era dalla parte destra del torrente Grana. Sono andati per prelevarlo, hanno trovato il letto caldo e lui non l'hanno trovato. Sono ripartiti perché arrivavano da Rucas, stanchi, tardi, dopo mezzanotte. Conoscendo la famiglia Eiraudo, che mio fratello era stato nel genio ferroviere militare con questo Gino Massari, ha pensato bene di bussare a quella porta e noi li abbiamo accolti. E al mattino loro sono partiti, sono andati su a Rucas. E per fortuna, per fortuna che nessuna delazione ha fatto o nessuno sapeva o ha saputo che hanno pernottato a casa mia perché altrimenti ci avrebbero eliminati tutti. Questo è il 22 dicembre. 30 dicembre 1943, otto giorni dopo, sono arrivati, si è parlato di tedeschi, ma erano tanto tedeschi che parlavano anche il piemontese perché in casa mia uno ha fatto forradassi di Ubum. Qual era il suo ruolo nella lotta partigiana e come ha iniziato? Tutto quello che avevano bisogno venivano a casa mia. Mari, mi chiamavano Mari in nome di battaglia, Mari abbiamo bisogno di questo. Per esempio un mattino, era il 26 febbraio del 1945, hanno ammazzato i due fratelli Carrando. La notizia è arrivata ai Garibaldini di Montoso. C'era Gino dell'intendenza, viene e mi dice ho mandato cinque partigiani per il rifornimento in pianura, Villa Franca, Moretta, eccetera. va a vedere se sono loro i morti. Siccome io avevo i documenti, avevo il lasciapassare tedesco e poi oltre questo avevo una dichiarazione della ditta, quella era falsa, dove si diceva che ero incaricata a cercare degli alimenti per lo spaccio di Pralafiera. Sono passata a Bagnolo Piemonte e c'era il coprifuoco, sono passata a Cabur c'era il coprifuoco, sono arrivata a Villa Franca e c'era il coprifuoco. Io ho visto là davanti al municipio, proprio per terra, i morti, ma mica sono andata vicino. Tanto per questi non posso più fare niente. Io devo cercare i partigiani, vedere se li trovo e dove andarli a cercare, di chi fidarti. Io sono andata in questo rione, nelle case basse di Villa Franca, e lì ho trovato i partigiani da riaccompagnare a Villa Rondi Pagnolo. E io ero riaccompagnati alla sede. Siamo tornati alla sera, era notte, io ho fatto strada, loro dietro, io in bicicletta, loro a piedi. Avevo una cravatta, ho detto sì, io butto dietro la cravatta, perché c'è un pericolo. Allora allontanatevi dalla strada e altrimenti su, a piedi loro, e io in bicicletta, siamo tornati a Villa Rondi Pagnolo. Quindi lei era una staffetta? Staffetta è venuta fuori dopo. In quel momento eravamo tutti partigiani, tutti uguali, tutti, difatti il mio titolo di riconoscimento è partigiana combattente, mica staffetta. Staffetta sì, si dice staffetta, ma partigiana combattente perché ne ho combinate tanti. Qual è il ricordo più brutto che conserva di quei giorni? Una cosa tremenda. Ho avuto l'ordine di fucilazione, non fatemelo raccontare perché bisogna riviverlo, per verità. Perché guardi che davanti è un'arma, quando un'arma puntata che sa che quello è il nemico, quella può partire a qualunque momento. E il ricordo più bello? Il ricordo più bello sarebbe quando le campane hanno suonato del 25 aprile, però eravamo senza casa, senza pane, senza soldi, senza tutto. È stata una festa, però una festa limitata. A 91 anni gira ancora per le scuole e per i comuni a raccontare quei giorni. Perché lo fa? Io lo faccio perché non si ripeta, perché sappiano la libertà, cosa è costata, costata, come l'abbiamo conquistata, cosa abbiamo vissuto per averla e che non si perda, che non si ripeta perché la pace è la cosa più bella di questa terra per l'umanità. Con la pace si costruisce una vita, con la guerra non si distrugge la vita. Pensa che i valori per cui avete combattuto e siete stati uccisi si siano realizzati nell'Italia di oggi? Si sono attualizzati in parte. Prima del 25 aprile erano fascisti, dopo il 25 aprile erano tutti antifascisti. Avevano delle posizioni di comando e hanno mantenuto le posizioni di comando. Ma perché non si è fatto l'epurazione? Si diceva che i morti sono già troppi. Se noi facciamo l'epurazione, viene fuori la guerra civile. Cosa prova oggi a 70 anni dalla liberazione? Io a 70 anni dal giorno di liberazione, per me mi sembra ancora di sentire le campane suonare a festa. Mi sembra ancora di sentire le sirene che hanno sfischiato in un modo stupendo e una voglia di piangere io perché tutti i compagni che sono morti non sono più tornati. E quanti sono morti tra il 25 aprile e il 2 maggio? Sono morti, io parlo sempre di Torino, la nostra zona qui, no? Ci sono stati più morti tra il 25 aprile e il 2 maggio che non i 20 mesi di guerra di liberazione.